ed ecco un altro ad esempio è un sacco come siete? come gruppo di San? per il campionato come squadra abbiamo sempre ragazzi però bisogna trovare qualcuno che faccia il polacchi allora il polacco del torneo il larus il suo fratello lukas lukas siete bravi a finire quel territorio perché come Cristo si fermò ad eboli io sono stato ad eboli l'ho chiamato quando l'ho visto l'ho chiamato si perchè eravamo in ritardo come va? viaggi più troppo alto? si se vede il negro non ha guidato il vice negro vabbè ti sento il negro anche il fratello vabbè è un po' più responsabile alla guida di chi? prendendo il giusto volante secondo me bene noi siamo in 6 voi possiamo chiedere a un ragazzino in plastica? vabbè 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 Viva il Chirco! 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 Devi parlare con Aurelio, però non sa cosa fare! Girassi con la punta! Vai Aurelio, torna! Lei la punta eh! È meglio davanti alla difesa! Allora è Aspen lì parlare! Mezz'ora è Aspen lì! Mezz'ora è Aspen lì! Viva la fregna! Viva la fregna! Allora è meista! Viva la fregna! Non va, non va, non va! Viva la fregna! 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 Viva la fregna!